Oggi è il 27 ottobre 2023 ragazzi e per molti di voi sarà un giorno lambda, un giorno qualsiasi, un venerdì qualsiasi del 2023, ma per i possessori di SimCube 2 rappresenta l'inizio di una serie di aggiornamenti del TrueDrive che Granity Device ci ha promesso. Sono circa 8 mesi che questo software non è stato aggiornato. Per chi non lo sapesse TrueDrive è il software per la gestione del force feedback e le impostazioni dei SimCube 2. È lì che tutte le impostazioni dei SimCube vengono sistemate. Si parte con un piccolo aggiornamento. L'aggiornamento del software è alla versione 2023.10 che non è nient'altro che l'anno più il mese di ottobre. Ovviamente il numero 10 si inizia con il rilascio di una nuova impostazione force feedback centering spring che questo effetto aggiunge praticamente un autocentraggio auto allineamento del force feedback che può essere utilizzato per tutti quei giochi datati che magari erano dotati solo di effetti force feedback blandi in modo tale da renderli più intuitivi. Viene implementato anche la modifica della scala del force feedback nel firmware interno. L'impostazione della forza massima non dovrebbe più influire sui bump stop. Questa modifica non dovrebbe influenzare la sensazione del force feedback. Ci sono poi modifiche minori come ad esempio l'inserimento di nuove corone grafiche nel TrueDrive. Adesso c'è anche la corona Asher ad esempio ne saranno aggiunte sicuramente altre. Sono stati rimossi i codici inutilizzati dell'interfaccia utente e varie altre piccole modifiche. Ovviamente questo aggiornamento rappresenta solo l'inizio di quello che sono le promesse di grani di device. Non è questo aggiornamento che ci farà saltare dalla sedia però è una data molto importante perché dà il via appunto a questa serie di modifiche. Quindi ragazzi nella speranza di avere ancora aggiornamenti più succosi per migliorare questo TrueDrive arrivino presto. Io vi invito a lasciare un pollice in su se questo video vi è piaciuto. Lasciate un commento qui sotto ed iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. Noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto. Un abbraccio. Ciao!